Sotto il segno di Equinox, la nostra nuova pallina che verrà a disposizione di tutti a partire dal 2014, stiamo terminando la fase di test in tutte le acque e allora ci siamo detti perché non è endine, è endine grande pressione, grande pesca, grande difficoltà. Abbiamo appena finito di calare le canne con le nostre palline, adesso non ci resta aspettare l'effetto delle Equinox sulle nostre amiche baffute. Allora, le palline si sono dimostrate davvero performanti, subito diverse catture, diverse carpe nelle nostre sacche, però dopo diverse carpe di peso standard e medio, finalmente c'è arrivata una gradita e pesante sorpresa. Adesso ve la facciamo vedere perché la stiamo per liberare. splendido pesce del lago di Endive, questa bella è panciuta da reggiorna Endive. Nella tua casa, alla prossima volta, questa volta ha vinto Sissimone. Sissimone.